E' durata circa un'ora. Di fronte al giudice del riesame Maria Michela di Fine, la richiesta, avanzata dai legali di Francesco Provolo, Carlo Visca e Mauro Sabatino Belmaggio, di annullamento del provvedimento di sequestro conservativo degli stipendi. La misura era stata emessa il 30 ottobre scorso dal giudice per l'udienza preliminare Gianluca Sarandrea, su richiesta dell'avvocato Romolo Reboa, che nel processo Rigopiano rappresenta alcune parti civile costituite. Noi abbiamo chiesto dei monumenti stemendiari. Ci sono da parte delle difese avversarie che sostengono che essendo un imputato nel frattempo andato in pensione, il provvedimento che il giudice ha inteso e interpretato come stipendi e pensioni sarebbe viziato perché sarebbe stato di utra petizione perché il collega avversario ha dichiarato lui che era stato andato in pensione e a me pareva che avessimo pure in aula e detto ok, allora anche alle pensioni. Però questo è il tema. Se gli avvocati dell'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo hanno espresso alla dottoressa Di Fine la loro contrarietà al provvedimento, visto che il gruppo avrebbe dovuto mettere sotto sequestro esclusivamente la quota del quinto degli stipendi maturati e non di quelli successivi, l'avvocato Galassi, legale dell'ex dirigente regionale Carlo Visca, ha tenuto a precisare come nella richiesta delle parti civili si parla esclusivamente di stipendio e non di pensione, dunque non attuabile. Il ricorso per sequestro molto puntuale è stato richiesto sugli stipendi. Il mio assistito, il signor Visca invece, non percepisce uno stipendio ma è in pensione, quindi ha un assegno pensionistico e come tale noi riteniamo che la forma sia anche sostanza e quindi non sia mutuabile o modificabile con un ampliamento di un'ordinanza sulla base di quello che non è stato richiesto. Il Correggio ha fatto decorre i termini per la decisione da oggi e quindi si è preso un ulteriore tempo per poter decidere. Penso che fra una cosa o l'altra uscirà fra una trentina di giorni, secondo me sarà il provvedimento di fine anno. Venerdì il processo Rigopiano tornerà in aula. Nell'udienza con molta probabilità si procederà con l'affidamento dell'incarico ad un perito per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche riguardanti il filone del depistaggio, per poi iniziare a discutere, a questo punto nel 2021, delle eventuali richieste di rito alternativo. Resta però da definire la questione sicurezza. Alcuni avvocati hanno posto il problema riguardo il rischio alto di contagio, ma fino ad oggi nessuna nuova nota a riguardo è stata inviata dal presidente del Tribunale di Pescara.